Dare alle persone più potere per gestire il tempo, risorsa chiave ma limitata della nostra vita. La nuova Microsoft parte da questa strategia e dalla consapevolezza che lavoro e tempo libero non sono più distinti. Questa strategia guida anche la filiale italiana, che ha da poco nominato due nuove manager alla guida delle divisioni Windows e Office, Evita Barra e Claudia Bonatti, in un momento strategico per l'azienda perché coincide con il lancio del nuovo sistema operativo Windows 10, in arrivo in estate, con l'obiettivo di un miliardo di dispositivi attivi entro l'anno fiscale 2018. Dicono che il sistema definitivo, sicuramente Windows 10, ha una risposta ad un pubblico talmente ampio, con un costante aggiornamento a cui gli utenti avranno diritto nel tempo, che probabilmente non ci sarà la necessità di fare un altro rilascio. La sicurezza è importante sia in ambito consumer che in ambito business e Windows 10 abilita, per esempio, un nuovo modo di accedere al proprio dispositivo che non è soltanto limitato all'utente e la password, ma che potrà sfruttare il riconoscimento facciale, quello dell'impronta digitale, la lettura dell'iride. Surface 3, l'ultimo tablet Microsoft pensato per Windows 10, è disponibile da qualche giorno in Italia. È il tablet che sostituisce il tuo notebook per un pubblico molto ampio di persone, come studenti e professionisti in movimento, che hanno bisogno di un dispositivo performante, bello, sottile e leggero. Per quanto riguarda la parte professionale, Microsoft punta su Office 2016, la suite usata da un miliardo di utenti nel mondo. La strada che Microsoft sta percorrendo con Office 365 è quella di rendere Office disponibile su tutte le piattaforme. Quello che noi faremo su Office 2016 è quello di inserire sempre più dei contenuti, delle funzionalità che si appoggiano sulla capacità delle macchine di imparare e di dare suggerimenti, osservando ciò che gli utenti fanno. Office 2016 via app sarà disponibile gratis perché ha dispositivi con schermi inferiori ai 10 pollici. Finora le app per iPad e iPhone sono state scaricate oltre 80 milioni di volte. Non è la più scaricata delle app, ma sicuramente quella più di moda e in costante crescita. Periscope, acquistata da Twitter per 100 milioni di dollari, permette di trasmettere video in diretta via smartphone a milioni di potenziali follower. Un campo in continua crescita, quello delle app di live streaming come Periscope o anche Mercat, che pone però dei seri problemi di limiti legali. L'imprenditore francese della Silicon Valley, Sylvain Kalash, la utilizza come strumento di lavoro. Parla a una rete di 3.000 collaboratori sparsi in 40 città in tutto il mondo. Siamo una comunità e con questa app è come se fossimo tutti nello stesso posto, spiega. Uno strumento utile, certo, ma queste tecnologie a portata di tutti mettono a rischio i diritti d'autore, come è accaduto con l'incontro di box Pacquiao-Mayweather, quando alcuni spettatori hanno trasmesso la sfida, una catastrofe per chi ha pagato milioni di dollari per i diritti di diffusione dell'evento. Questioni simili si sono già poste con YouTube e Vimeo, ad esempio, ma qui la faccenda è ancora più complessa. Qualcuno troverà il modo di usare Periscope e Mercat per fare soldi, ma non è un problema degli sviluppatori, spiega Parker Higgins, specialista di diritti d'autore. Al momento Periscope si è impegnato a disattivare gli account di chi viola le regole di diffusione di alcuni eventi particolari, ma il problema rischia di esplodere se queste applicazioni riusciranno, come fu per YouTube, a diventare qualcosa di più di una semplice moda passeggera. Anche il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è sbarcato su Twitter. Ciao Twitter, sono Barack, veramente. Dopo sei anni, finalmente mi hanno dato il mio account personale. È stato il primo cinguettio pubblicato da POTUS, ovvero il presidente in persona. Un messaggio rituitato da oltre 60.000 persone in un'ora, mentre i follower sono già oltre un milione e mezzo in due giorni. Obama su Twitter si è definito papà, marito e 44esimo presidente degli Stati Uniti. Finora aveva usato l'account Barack Obama, aperto in campagna elettorale e gestito dal suo staff, seguito da quasi 60 milioni di persone, e White House, con oltre 6 milioni di followers. Se era lui a twittare, con uno dei due account firmava i messaggi con un semplice bo. L'account POTUS sarà un nuovo modo per il presidente di relazionarsi direttamente con gli americani, con tweet che saranno scritti esclusivamente da lui, ha fatto sapere la Casa Bianca. Come foto del profilo, il presidente ha scelto un suo primo piano. Come foto di background, una significativa immagine sul ponte Edmund Pettus di Selma in Alabama, alla celebrazione per il cinquantesimo anniversario della Marcia per i Diritti Civili. Al momento il presidente segue pochi account, tra cui ci sono quelli di Michelle, degli ex presidenti Bill Clinton e George W. Bush, di John Kerry, e di alcune università come la Columbia e Harvard, e delle sue squadre preferite, Blackhawks, White Sox, Bears e Bulls.